Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Per chi non mi conoscesse, io sono Lisa e vi do il benvenuto sul mio canale. Viste le giornate grigie e piovose, diamo un tocco di colorino qua, anche se non troppo, perché il maglione è nero. Ma, nonostante ciò, benvenuti in questo video in cui vi parlerò delle letture che ho fatto ad aprile. Sono molte, per i miei standard, in generale ho letto molto, ma di queste il mio cane si è evidentemente scocciato di ascoltarmi e se ne è andato. Di queste parecchie ve le ho già mostrate, quindi invece di stare a ripetermi, ovviamente vi linkerò tutti i video qua sopra in cui ne parlo molto approfonditamente, quindi è inutile che io sia qui a sproloquiare per tempi interminabili, ma vi dirò quante stelline le ho dato su Goodreads. Ciò significa che nel momento in cui ho finito il libro a caldo ho dato una valutazione, una valutazione che rimarrà quella, e quindi in base a una o cinque stelle voi capirete quanto mi è piaciuta quella lettura. Allora, io partirei dagli Iperborea, semplicemente perché sono quelli che vi ho fatto vedere nel video scorso, che sarà il primo che vi metterò qua in alto nelle schede. Andando in ordine di lettura, partiamo col primo, che è stato Mare Bianco. Mare Bianco è il secondo libro della saga dei Barroi, il primo degli Invisibili. Come vedete qua cade tutto, adesso piano piano li metterò su, così avremo un setting un po' più decente. Questo ha ricevuto 5 stelle, un libro di cui appunto vi ho già parlato, bellissimo, 5 stelle per me le vale tutte. Successivamente ho letto Leggende Groenlandesi. A questo ho dato 5 stelle, semplicemente vi dirò la verità, perché alle altre fiabe non darei 5 stelle, quindi ho voluto valutarlo in rapporto alle altre, anche se a vederla tutta probabilmente vi ne darei 4, però facciamo fede a quello che ho messo a caldo, quindi 5 stelle anche per questo testo, che però se devo vedere in base agli altri 5 stelle, non è un 5 stelle. Dai, 4, facciamo 4 stelle questo. Poi passiamo a Il Faraone d'Olanda. Non vi sto leggendo gli autori, semplicemente perché per me sono piuttosto impronunciabili. Cioè ho paura di dire delle castronerie, quindi li vedete. Allora, Il Faraone d'Olanda, un libro bellissimissimo, leggetelo, veramente molto consigliato. Ho dato 5 stelle, ora lo so che sembrano tutti 5 stelle, la verità è che sono letture che mi sono piaciute molto. È stato un mese veramente proficuo, non ci sono state letture che mi hanno delusa particolarmente, né che mi hanno delusa in generale. E questo mese di maggio invece prevedo già che qualcosa andrà storto, perché ho intenzione di recuperare dei libri che sono fermi da anni. Ciò significa che proprio non mi piacciono, ma io le sento tutte. Comunque, ritornando al nostro Faraone d'Olanda, questo libro è una coccola, una dolcezza, leggetelo. Andiamo poi a Il Violino del Pazzo. Il Violino del Pazzo ho dato 3 stelle. In realtà è un libro che mi è piaciuto parecchio se è andata a vedere la recensione che ho fatto nello scorso video. Io ho dato 3 stelle perché l'ho paragonato a Bandito, sono della stessa autrice, e a questo ho dato 5 stelle. Rientra a tutti gli effetti nei miei libri preferiti del 2024, quindi messi a paragone questo è un 3 stelle e questo un 5 stelle. Se vogliamo vederla tutta, potrei alzarlo a 4, perché comunque mi è effettivamente piaciuto. Però anche qui, i miei metodi di valutazione variano da libro a libro, non ne ho uno per tutti. E passerei alle altre letture. Quindi queste sono state 5 letture abbastanza cicciotte. Sapete che il formato di Iperboria è quello piccolino. Sono state abbastanza cicciotte, però appunto avendovene parlato nello scorso video non mi dilungo di più. Sono già passati 5 minuti, quindi direi che sono sufficienti. Li rimetto su e passiamo ai prossimi libri. Per quanto riguarda i prossimi libri, invece, riguardano tutti la letteratura russa o slava. Sono 3 e vi ho parlato, vi ho fatto una recensione, un'analisi approfondita soltanto dello scarabio nel formicaio dei fratelli Strogatzky. Questo libro mi è stato inviato da Carboni Editore, che ringrazio sempre tantissimo. Io amo i libri fantascientifici dei fratelli Strogatzky. Come sempre vi dico che sono gli unici che leggo, nel senso che il genere fantascientifico a me non piace. Ma questi due autori hanno veramente una penna bellissima e a me sconvolge sempre il fatto che scrivano in due. Sono due fratelli e non uno solo. Non sarò a rifarvi il riassunto della trama, come sempre vi metto qui nelle schede il video dedicato. Questo libro è veramente bello. L'unica cosa che mi sono accorta, che forse è il secondo, è un libro che si può leggere tranquillamente staccato, è un stand-alone se vogliamo chiamarlo così. Semplicemente con lo stesso protagonista, Maxim Kammerer, deve esserci un altro libro che loro mi hanno inviato, ma essendo questa l'uscita recente, nuova, ho voluto leggere prima questo, ignara del fatto che il protagonista ci fosse prima nell'altro libro, che è l'Isola Ovitata. Ma è un libro che, piccolo spoiler, vorrei leggere a maggio, quindi sicuramente ne parleremo. E non so bene a maggio cosa leggerò, vi dirò la verità, ho tanta voglia di leggere tante cose. Andrò al salone del libro, quindi prevedo degli acquisti folli, soprattutto per questa casa editrice. Detto ciò, è un libro che mi è piaciuto molto, è un libro che, ribadisco, non ho avuto bisogno della postfazione per comprendere a pieno. Nel senso che questa volta la trama è stata abbastanza lineare, sono stati svelati tutti gli intrighi o comunque le parti che il nostro Maxim Kammerer non sapeva e che quindi noi non sapevamo sono state poi spiegate nel corso della trama, cosa che di solito per i fratelli Strogatzky non è data per scontata, assolutamente. Spesso e volentieri bisogna leggere la postfazione di Baris per capirci qualcosa. Invece in questo libro abbiamo tutto chiaro alla fine del libro, motivo per cui se volete iniziare a leggere la fantascienza di questi due autori, io vi consiglio perché, ribadisco per la centesima volta, è un libro molto chiaro e molto lineare. E arriviamo finalmente alle due letture su cui posso dilungarmi un po' di più perché non ve ne ho parlato nei video precedenti. Partirei da quella più semplice che è Il funerale di Zia Stana. Questo libro mi è stato inviato da Voland, che ringrazio tantissimo, e l'ho divorato in tre giorni, forse, due giorni. È un libro che nonostante sia intitolato Il funerale, a me ha fatto ridere. Io non so se sia una cosa voluta, credo proprio di sì, l'autrice è bosniaca, ma ci sono stati dei momenti in cui a me partiva la risata dalla pancia. È stato bellissimo. Allora, Il funerale di Zia Stana tratta del funerale di Zia Stana. Nel senso, questa Zia Stana già muore in circostanze un po' comiche, se così si può dire. Nel senso che si strozza con un pezzo di pollo. E la trova il marito, zio Radomir, completamente secchita. Vi ho lascia al suolo e so che direte, ma a te che cosa ridi per il macabro? No. Abbiamo la nostra protagonista, che è una giovane ragazza, la figlia del nipote di Zia Stana. È la parte paterna, scusate il gioco di parole, della nostra protagonista. E lei viene mandata al funerale della Zia Stana. Perché? Perché il padre ha perso il lavoro e non si alza praticamente mai dal divano. E la madre, essendo un bel caratterino, avendo un bel caratterino, non va più d'accordo con i parenti del marito. Motivo per cui viene mandata la ragazza. Questa ragazza, però, non è che ha effettivamente un carattere forte. Anzi, per niente. Tutto ciò che le viene detto, lei fa. Colpa anche dell'educazione che ha ricevuto dalla madre. Quindi, nel momento in cui le viene detto, tu vai al funerale, lei va al funerale. E a questo funerale succede di ogni, ma veramente di tutto e di più. Motivo per cui, questa ragazza finirà a dormire addirittura in casa di Zia Stana, con i parenti del padre completamente fuori di testa. E adesso vi illustro un po' questa famiglia. Oltretutto, noi non sappiamo se lei, il giorno dopo il funerale, raggiungerà mai casa sua o no. Veniamo lasciati nel bel mezzo di questo ritorno a casa. Innanzitutto, vediamo le coppie di altri Zia. Allora, abbiamo Zia Stana, appunto, morta. E Zio Radomir, che ad un certo punto, preso dalla disperazione, oltre a buttarsi sulla cassa di Zia Stana quando la stanno per interrare e mancarla, quindi finire di faccia nel fango. È stata un'immagine che mi ha fatto molto ridere, credetemi. Come è stata descritta, fa molto ridere. Abbiamo anche altri zii. Abbiamo Zia Mileva, che altra donna di un certo tipo, ad un certo punto, fa a botte con l'infermiera. Proprio perché Zio Radomir, stavo finendo di dirvi, oltre a lanciarsi sulla cassa, ad un certo punto tenterà anche di suicidarsi, proprio per la mancanza mortissima di Zia Stana. Zia Mileva, appunto, è sposata con Zio Ghiro. Zio Ghiro è un ubriacone, quindi lui l'unica cosa che fa è pensare a bere la rakia, spero si pronunci così, che deve essere questo liquore bosniaco molto forte, molto alto di gradazione. Poi abbiamo il Pope e la Popessa. Ora, non sono un Pope e una Popessa, semplicemente lui aveva preso i voti e poi, dopo essersi innamorato della Popessa, è uscito da tutta la parte religiosa, diciamo, e ha sposato la Popessa. Questi due sono estremamente strani, nel senso che il Pope non dice niente, è assolutamente succube della moglie. La moglie è ben strana, cioè ad un certo punto, verso la fine del romanzo non posso dire cosa succede, ma molto molto strana. E poi abbiamo il cugino Stojan, o Stojan, non saprei dove va l'accento. Il cugino Stojan, io l'ho sempre letto così, quindi nella mia testa è corretto. Il cugino Stojan è un uomo che si accende per tutto. Questo accende, con gli apparecchi mi viene veramente male. Si accende per tutto e infatti, insieme a tutto il resto del parentado, dovete immaginarvi che disastro che fanno a questo funerale. Quindi per me è stato un libro che ovviamente fa riflettere su determinate tematiche. Penso che sia scritto in questo modo anche per esorcizzare un po' la morte, però è un libro che a me ha fatto veramente divertire, nonostante tutto. Quindi io ve lo consiglio. L'ultimo libro che ho letto questo mese è Nella Quiete del Tempo di Olga Tokarciuk. Allora, di questo libro non so veramente bene come parlarvi. Penso che vi farò una recensione singola, perché è stato un libro molto, molto profondo, difficile da affrontare a tratti. Quello che io dico sempre è che la scrittura della Tokarciuk per me è molto semplice, molto lineare, molto bella. Anche la struttura dei suoi testi per me è un po' difficile da affrontare, nel senso che noi abbiamo determinati personaggi, facciamo un numero massimo di dieci personaggi umani. Questi dieci personaggi non ci vengono presentati subito tutti, ma ci vengono presentati pian piano nel corso del racconto. E qual è la narrativa di questa autrice? Lei fa sì che ogni personaggio dia il suo punto di vista, ma non tutto insieme, bensì sfalsato. Vi faccio un esempio perché non riesco a spiegarmi, non mi viene il termine che vorrei usare. Abbiamo Misia, che è una delle nostre protagoniste, è figlia di Genovefa e Mikau. Scusate, sono nomi polacchi, io spero di pronunciarli correttamente. Quindi abbiamo il punto di vista di Genovefa, il punto di vista di Mikau, poi il punto di vista dell'angelo di Misia, dell'angelo custode. Poi finalmente Misia inizia ad avere dei pensieri, perché dopo essere nata inizia a crescere. Quindi il punto di vista di Misia, il punto di vista di Genovefa, il punto di vista di Mikau. Poi abbiamo il fratello di Misia, che nasce Isidor, quindi abbiamo il punto di vista di Isidor. Così. Non soltanto della stessa famiglia, vi ho fatto un esempio dello stesso nucleo familiare, ma anche di altri. Questo fa sì che il racconto sia molto frammentato e a volte sia difficile da seguire. Una volta però che capite tutti i personaggi in gioco, è molto più semplice. Cosa mi piace della narrativa della Tokarciuk? Che lei non fa soltanto vedere un punto di vista umano, ma anche un punto di vista naturale, animale e degli oggetti. Quindi a volte noi abbiamo, tutti i capitoli iniziano con il tempo di, e ad un certo punto abbiamo il tempo del macino a caffè, che è questo oggetto molto importante all'interno della storia, anche se è un oggetto comunissimo. E, o ad esempio il tempo del gioco, che è proprio un gioco da tavola, che ricorre più volte. E quindi questa tipologia di narrativa rende il testo un pochettino complesso. La storia di fatto non c'è una vera e propria trama, però la storia è molto semplice, perché noi seguiamo questi personaggi, ciò che fanno durante i loro anni, dalla nascita alla morte. Alcuni li prendiamo alla nascita, altri li prendiamo in mezzo alla loro vita. Qual è la bellezza di questi testi? Che trattano, questo è anche un giorno, casa di giorno, casa di notte, che è l'altro testo che io ho letto della Tokarciuk, trattano di tematiche molto, molto profonde. Ad esempio, all'interno di questo testo abbiamo la guerra, abbiamo la condizione femminile, abbiamo tutta questa religiosità, che a volte è una religiosità un po' strana, sembra quasi che Dio e gli angeli siano a tratti menefreghisti, quindi né benevoli né malevoli, si dimenticano delle persone, degli esseri umani. Quindi è un testo molto profondo, molto bello, voglio cercarmi delle analisi per parlarvene meglio. Io amo profondamente questa scrittrice, certo è che quando leggo un suo libro poi ho bisogno di tempo per assimilarlo e soprattutto, prima di leggerne un altro, ho bisogno di un bel po' di mesi di stacco. Detto ciò, io spero che questo video vi sia piaciuto, mi rendo conto sia stato un po' caotico, ma oggi va così. Fatemi sapere tutto quello che ne pensate nei commenti, se volete supportare il canale lasciate un pollice in su e iscrivetevi, se volete farlo in modo attivo c'è un link grazie al quale potete regalarmi un libro, come sempre vi lascio i miei profili Instagram e TikTok nell'infobox, mi raccomando seguitemi, e noi ci vediamo alla prossima, ciao!